Paura nella notte a Sant'Alvise, in zona Canareggia, a Venezia, per un taxi andato a fuoco accanto al vicino in barcadera CTV. Questa mattina ancora chiuso a scopo precauzionale. Le fiamme infatti dal taxi si sono propagate rapidamente anche lungo l'approdo, ma senza provocare fortunatamente grossi danni. Come si vede dalle immagini girate da un residente, Mauro Donati, il taxi ora è stato posto sotto sequestro. Quasi certamente di origine dolosa la matrice e non si esclude per motivi di ripicca. Infatti non è il primo caso di un taxi che per motivi apparentemente sconosciuti va a fuoco. Sono stati gli stessi residenti a dare l'allarme verso le 3 del mattino perché svegliati di soprassalto da almeno un botto proveniente dalle vicinanze dell'imbarcadero. In pochi istanti l'intera barca era stata circondata dalle fiamme. I vigili del fuoco arrivati subito sul posto hanno lavorato l'intera notte per avere la meglio sulle fiamme.